Io chiamo gli altri ospiti che sono Luca Bianchi, direttori dello Sbimez, si può Carlo Borgomeo, presidente della fondazione con il Sud, Saverio Romano, il senatore Renato Schifani, poi c'è il presidente dell'ordine degli avvocati Giovanni Immordino. Prego, è giusto Catania, anche il vice sindaco della città di Palermo, prego, è giusto, così ci siamo, ok. Ok, perfetto, prego, prego là, d'accordo, ora rimettiamo un po' d'ordine, abbiamo il nostro presidente Nino Foti, che è qua, lo lascio a te Paolo e poi possiamo iniziare l'intervista. Grazie presidente, grazie a tutti voi che siete venuti. Oggi il nostro scopo è dimostrare che il futuro non è di là da venire, ma è già iniziato. Noi siamo qui per dare una rappresentazione del futuro. Prego, la parola. Presidente, forse, dottor Miele, il tempo qui non è considerato in quei termini. Io naturalmente sono d'accordo con lei, avendo vissuto gran parte della mia vita fuori dal Sud. Quindi questo è un principio fondamentale che fa parte proprio di quell'efficienza del presente e del passato. E quindi è uno degli elementi che può essere un piccolo indicatore, ma ci riguarda personalmente per qualsiasi attività che dobbiamo fare. Io, dottor Mieri, sull'argomento e sul report volevo dire solo due cose, cerchiamo di stare nei minuti che ci ha consentito. Parlando del perché la Fondazione Magna Grecia, che come obiettivo ha proprio quello non di guardare al passato come osservatori inutili, per dire quanto era bello il passato, ma essere utili al presente e al futuro. Volevo dire che nel report i due passaggi, quello del riferimento alla California, perché il problema sono gli uomini, non naturalmente l'ambiente, e gli uomini del Sud vanno analizzati come non mai, perché le attività che riguardano gli studi, del perché il mezzogiorno è stato cancellato, è stato cancellato ed è diviso ed è un danno per il paese intero, perché se il mezzogiorno non viene attivato, non viene attivato il resto d'Italia. Le economist qualche anno fa ha detto che l'Italia è divisa in due, ha ragione. E noi con la nostra attività vogliamo essere una goccia nel mare di necessità, ma una goccia effettiva che produce un effetto, che è quello di iniziare da oggi proprio questo nuovo modo di vedere. E per noi la memoria della Magna Grecia non è una memoria qualsiasi, è uno stimolo a capire la storia, a capire la nostra posizione della storia, a capire il perché di alcuni atteggiamenti e a capire che la nostra vita è anche la continuazione di quella vita che è stata quella dei nostri antenati, che naturalmente non sono i nonni o i nonni dei nonni, ma sono quelli di un mondo antico. Il professor Poli faceva riferimento al Medioevo. il Medioevo è un periodo oscuro e un ricercatore americano, si chiama Robert Putnam, ha scritto un libro dove dice tradizione civile e le regioni italiane, per dire perché una parte d'Italia funziona e l'altra no. I suoi studi con 18 sociologi sono iniziati circa 25 anni fa, per 6-7 anni, e hanno stabilito il perché. Perché? Perché lui fa riferimento all'età feudale. In quel periodo il professor Caporare, per esempio della St. John's University, e altri che erano i miei predecessori a Magna Grecia, hanno stimolato un dibattito anche con il professor Potnam, dicendo che per fare questa ricerca deve andare più indietro nel tempo, perché nel periodo della Magna Grecia, dalla quale tutti dovrebbero essere debitori, proprio in quel periodo c'è stata una rivoluzione di tipo culturale, perché i greci che sono venuti nel sud Italia hanno creato una Grecia più grande, infatti si chiamava Magna Grecia, perché proprio in quel posto sono fiorite l'arte, la cultura, l'immigrazione era anche di intellettuali, la stessa polis. Ricordiamo che Pitagora, che era un anonimo, che veniva da un'isola di Samo del Leggeo, diventa un astronomo, un religioso, un politico, perché dopo a Pitagora si sono ispirati gli studiosi filosofi francesi per la costituzione degli Stati Uniti d'America e questo è provato da un libretto che ha scoperto sempre Giovanni Pugliese-Garatella, Accademia dei Licei, dicendo che l'equilibrio dei poteri a cui si sono ispirati i filosofi americani viene proprio dal V secolo a.C. con Pitagora. Quindi questo era solo uno stimolo perché io sono molto interessato ad ascoltare quelli che verranno dopo di me, anche perché sono i massimi esperti del Mezzogiorno, e dare uno stimolo perché capire anche qual è la nostra posizione nella storia e capire perché in quel tempo, per ben cinque secoli, il mondo di allora, che era la Magna Grecia, era ai primi posti nella civiltà, che è la culla della civiltà occidentale, perché questo non si è mai più ripetuto. Grazie, l'applaudio io per primo. È stato nei tempi e ha fatto una sintesi molto interessante del motivo per cui siamo qua, del motivo per cui l'associazione si chiama Magna Grecia, è una specie di invito a tornare a essere Magna Grecia, cioè essere l'espressione più moderna, non fare piccoli passetti per poi tornare indietro, ma proiettarsi potentemente verso il futuro. e chiedo a Luca Bianchi della Svimez di raccogliere questo stimolo e mi raccomando anche lei sia nella legge di Giusto Catania, che è quella che regolerà, e vedrete come con l'ispirazione di Giusto Catania, vedrete come ci catapultiamo già nel nord più nord. Il futuro del mezzogiorno, la prima riconsiderazione che viene da fare, è che non può essere disgiunto dal futuro complessivo dell'Italia, cioè il realtàio, noi come Svimez da sempre abbiamo sempre costruito interno al concetto di interdipendenza tra i territori, la nostra analisi economica e io aderisco anche molto poco alle differenziazioni quasi tra territori così profonde, cioè ho addirittura soltanto un elemento di predisposizione del meridionale al lavoro diverso dal settentrionale. Quindi senz'altro che vuol dire ipotizzare il futuro del mezzogiorno? Vuol dire ricostruire una sorta di patto tra nord e sud in questo paese. Negli ultimi vent'anni, io non sono uno storico, quindi parlo un po' dell'economia negli ultimi vent'anni, mi sembra che la rottura di questo patto ha portato a una lettura dell'Italia come fatto di due realtà così profondamente diverse e distanti, che evidenziava problemi diversi e soluzioni diversi. Io credo che è questa cercare la soluzione ai problemi dell'Italia con soluzioni per parti, cioè con soluzioni diverse, siamo arrivati fino alla declinazione più evidente, che è stata quella dei mesi scorsi, in cui si diceva le infrastrutture al nord e il reddito di cittadinanza al sud. Quando chiunque vive nel sud è perfettamente consapevole di quanto le infrastrutture servano, quanto i movimenti CTAV nel mezzogiorno sarebbero molto più numerosi dei movimenti no TAV e dall'altro reggio cittadinanza, un intervento più o meno discutibile, ma senz'altro utile per fattori di degrado e di disagio sociale che esistono al sud come al nord. Quindi in questo senso non esiste, secondo me, un futuro del mezzogiorno disgiunto dal centro nord e probabilmente anche, se leggiamo i dati economici, anche di confronto delle grandi regioni del nord, penso alla Lombardia e al Veneto, in termini di performance degli ultimi dieci anni, rispetto alle regioni forti del centro dell'Europa, in realtà hanno perso anche loro posizioni. Quindi questa soluzione per parti, questa che poi è arrivata anche lì alla discussione che abbiamo avuto in questi mesi sull'autonomia differenziata, così interpretata, in cui bisogna fare delle cose completamente diverse al nord e al sud, secondo me non definisce né il futuro del sud né probabilmente il futuro del nord. Quindi la ricomposizione degli interessi tra il sud e il nord, secondo me, se devo fare uno spot semplice, è questa la vera emergenza. Cioè provare a fare una strategia nazionale che ricomponga gli interessi dei due territori, che vuol dire ne valorizzi le potenzialità. Questo è un po' il mio messaggio. Grazie a Luca Bianchi. Io sono perfettamente d'accordo con lui. Nel senso che i problemi del sud di cui noi stiamo parlando non sono quelli relativi a un eterno ritardo e agganciarsi a un vagone del nord o del centro nord, perché quel vagone ha... cioè il treno, la locomotiva ha delle sue difficoltà, ce l'ha in tutta Europa, ce l'ha anche a Stoccolma e quindi il sud deve partorire e mi ispiro alle cose che ho letto su Magna Grecia, una sua identità propositiva e ambire, forse sarà troppo, ambire a essere il sud locomotiva. Esatto, è avere un motore che lo sganci da questa eterna idea che è stata perdente in Italia in modo particolare di un sud che rincorre il nord e che poi viene disprezzato e descritto come la caccia di regalie, monumenti. È molto interessante quello che lei ha detto e proporrei a Carlo Borgomeo della fondazione, presidente della fondazione Consud, di dirci anche, oltre alle cose che ci vuol dire, se è d'accordo con questa impostazione. Sì, sono molto d'accordo. Aggiungerei una impressione che probabilmente coinvolge molti di noi. Parliamo di futuro, abbiamo alle spalle 70 anni di politiche straordinarie per riequilibrare il divario tra i territori che non hanno funzionato. E questo, secondo me, ci dovrebbe portare a una riflessione, l'ha già fatta Luca, sull'opportunità di politiche generali e di non di politiche settoriali. Ma guardando al sud ci dovrebbe far chiedere se per caso, siccome 70 anni è un periodo lungo, non c'è stato un errore di fondo nella impostazione politica, diciamo, nell'offerta, nella cultura dello sviluppo del sud. Siccome vorrei stare nei tre minuti, vado velocemente. Secondo me, l'errore è stato di aver sottovalutato quello che il nostro relatore di base ha messo al primo posto tra le strategie future. Lui l'ha chiamata la cura, la coesione sociale, il capitale sociale. Abbiamo sottovalutato il fatto che lo sviluppo di un territorio non si fa trasferendo soldi. C'era un economista minoritario alla Svimez, Sebregondi, che diceva che lo sviluppo delle aree sottosviluppate si fa con trasferimento dalle aree più ricche, ma a condizione che sul territorio ci sia la voglia di sviluppo. Altrimenti quegli interventi, diceva lui in maniera lucidissima, diventano assistenziali ed oppressivi. Allora il punto qual è per andare rapidamente e sono scusato, anzi, sono apprezzato per andare rapidamente e che questi temi e quando dico questi temi dico che se uno mi chiedesse oggi il mestiere che faccio qual è il tema più importante del sud, non il tema sociale più importante del sud, il tema più importante del sud sono le situazioni dei quartieri periferici della grande città. Al secondo posto ci mette la povertà educativa, al terzo posto ci mette i servizi alle persone che sono in una situazione drammatica, al quarto posto udite udite ci mette una politica intelligente dell'accoglienza degli extracomunitari. Queste qui non dovrebbero essere delle politiche accessorie rispetto all'offerta politica per il sud, dovrebbe essere la premessa per lo sviluppo. Ormai anche i grandi santuari delle teorie economiche incominciano a spiegarcelo che il capitale sociale è la premessa e non l'esito dello sviluppo. quindi io dovessi dire le priorità rispetto al futuro alcuno le ha dette tutte lui reti di mobilità l'ha detto prima Luca ricerca e sociale non anche il sociale il sociale con la logica della cultura del sviluppo. Qual è l'obiezione culturale? E che tutti noi la mia generazione certamente ci abbiamo stampato in testa che queste cose in una cultura del welfare ottocentesco novecentesco queste cose seguono la crescita e quindi ti senti dire tranquillamente hai ragione la povertà educativa ma un attimo devo fare la crescita se non ho le risorse per quello è il contrario è la seconda grande obiezione tutta politica che questo ragionamento anche alcune delle cose che ha detto lei sul futuro sono ragionamenti che hanno tempi lunghi cioè tempi incompatibili con la politica questo è il grande tema nessuno dice che sto dicendo sciocchezze però dice vabbè ho capito però intanto allora scusate la velocità e la battuta però è 70 anni che ci diciamo intanto e non ha funzionato bisogna avere la lucidità e il coraggio di investire in questa direzione perché questo lentamente ma in maniera solida potrà determinare il sviluppo se poi facciamo un secondo giro vorrei dire una cosa di un minuto sui fondi europei se vuole questo a lei è stato così efficace e l'autorizza dirla subito tanto il conduttore ma no faremo un secondo giro però mi è interessato sui fondi europei che cosa vorrei dire anche questo scusate può sembrare un ragionamento da barra lei ha detto cose giustissime però io penso siccome abbiamo tutti in mente come è andata nel sessegno che sta terminando lo sappiamo tutti come è andata io mi aspetto che qualcuno mi dica qual è il motivo per cui è andata male perché altrimenti come facciamo a dire andrà bene perché andrà bene che succede per cui andrà bene e secondo me il motivo lui l'ha detto e lo dico sinteticamente è che ancora una volta questa programmazione è a cascata a Bruxelles si decide una cosa sotto si decide un'altra cosa sotto si decide un'altra cosa per cui io non faccio un progetto in relazione a quello che è l'esigenza che è avverto io faccio un progetto che aderisca il più possibile a quelle regole cioè non si fa sviluppo allora no no un attimo allora siccome anch'io non posso fare il comizio e dico va male che proponi io propongo una cosa dura ma fattibile si prendano i cinque ambiti perché adesso la nuova programmazione ha cinque ambiti e si faccia per ciascuno degli ambiti come ha fatto la Spagna due sessenti fa per ogni ambito si fa un progetto in tutto il mezzogiorno uno le ferrovie benissimo la banda larga benissimo tutti i soldi alla ricerca tutti i soldi alla ricerca altrimenti io mi chiedo e lo chiedo senza avere un tono provocatorio mi spiega qualcuno perché questo sessene dovrebbe andare meglio con gli stessi attori con le stesse regole con gli stessi vincoli e con le stesse difficoltà alla flessibilità grazie la ringrazio per le cose coraggiose che ha detto secondo me lei è consapevole del fatto che il discorso che lei fa sul sud a questo punto si applica a tutta l'Italia perché è tutta l'Italia che si trova ad avere una posizione nei confronti dell'Europa come quella che lei ha descritto del sud di questi 70 anni anche noi diciamo prima lo sviluppo lo diciamo in modo generico prima la crescita ecco lo decliniamo in questo modo e poi chiediamo all'Europa di autorizzarci di autorizzarci ad aprire i cordoni della borsa dei nostri figli o dei nostri nipoti prelevare dei soldi che dovremmo spiegare uso lo stesso ragionamento che fa lei perché non ha funzionato fino adesso sono molti anni che allarghiamo questi cordoni aumentiamo il debito e non cresciamo per questo torno a dire e prendo spunto dal messaggio subliminale dell'associazione Magna Grecia il sud quando parla di sud deve porsi a sé deve prendere la leadership di questo modo di ragionare e non essere la retroguardia di un paese che è diventato retroguardia a Saverio Romano presidente dell'Eurispe se vorrei aggiungere eh? troppo si parte ma bisogna vabbè va bene però Fara di fronte a tutti noi le cederebbe volentieri questo titolo almeno stasera Fara è generoso lei lo sa e a lei faccio un'ulteriore considerazione anche lei è autorizzata a dire quello che pensa che il sud ha un punto debole ne parleremo poi anche con gli esponenti più politici che è quello di avere un elettorale volatile cioè di avere questo elettorato che è comune a tutte le regioni del sud per cui si fa fatica a trovare un baricentro duraturo tutti da una parte tutti dall'altra persa la centralità democristiana il sud è in preda almeno all'occhio di chi lo guarda da fuori a una malattia aggiuntiva ma lei non deve dire non è obbligato a commentare questa mia affermazione e le do la parola grazie ma lei mistica a parlare tre ore questa è una battuta però vado subito alla domanda e poi faccio qualche considerazione da qualche tempo il sud è in preda alla volatilità di tipo elettorale diversamente come nel resto del paese perché il sud dopo con i meriti i demeriti i successi e gli insuccessi del governo democristiano nel nostro paese non ha trovato un punto di riferimento non ha trovato un interlocutore che riuscisse a dare delle risposte ai problemi che sono saliti dalla nostra società mi sembra abbastanza semplice è ovvio che quando ciò avviene in massa il fenomeno si nota quando avviene relativamente ad alcune fragilità che non hanno risposta si nota meno ma ciò detto il mezzogiorno da tanti anni in questa condizione è una premessa mi avviso sbagliata io mi inchino perché da Carlo Borgomè abbiamo tutti da imparare però dire che da 70 anni viviamo nelle stesse condizioni a mio avviso è sbagliato negli ultimi dieci anni viviamo molto peggio molto peggio in questi 70 anni la nostra condizione è peggiorata perché il divario di opportunità di socialità culturale industriale si è enormemente allargato ancora oggi tema che viene poco dibattuto noi spendiamo per un cittadino che vive nel nord del nostro paese 19.000 euro l'anno spendiamo per un cittadino che vive in Sicilia 14.000 euro l'anno facciamo un po' i conti di cosa significa per la Sicilia soltanto 5.000 euro l'anno per 6 milioni significano circa 25 miliardi il gap è fatto di risorse è fatto di intenzioni e poi conseguentemente di investimenti è vero noi abbiamo spesso trattato la questione meridionale come quella relativa al suo sviluppo alla sua crescita non considerandola nel suo insieme ma è pure vero che noi dovremmo porci una domanda di cosa ci stanno a fare nel mezzogiorno le ferrovie di cosa ci sta a fare nel mezzogiorno l'ANAS cosa ci sta a fare l'ENI l'ENI non va via da Gela perché io amo chiamare le cose con nome e cognome e assumermi le mie responsabilità l'ENI non va via da Gela e tiene in ostaggio 700 lavoratori perché denunciare che quella raffineria è improduttiva e antieconomica e quindi andare via significherebbe investire 2 miliardi in bonifica per evitare i disastri che ha provocato in questi lunghi anni anche alla salute dei nostri cittadini con cittadini di Gela sono temi che la politica deve affrontare partendo dalla testa perché se noi vogliamo utilizzare gli strumenti dello sviluppo per il mezzogiorno non ci sono soltanto i fondi europei ci sono anche gli strumenti che il governo ha a disposizione attraverso direttamente controllate e partecipate per promuovere sviluppo io ricordo a me stesso lo sa bene giusto Catania che è stato aeroparlamentare che spesso i progetti che sono stati finanziati con i fondi strutturali sono stati cosiddetti progetti sponda i progetti delle ferrovie perché non eravamo in condizione di fare progettazione e allora per evitare il disimpegno si riteneva opportuno farsi prestare il progetto delle ferrovie finanziarlo e realizzare quelle cose che le ferrovie avrebbero già dovuto realizzare e hanno avuto invece modo di spostare quei capitali fuori dal mezzogiorno fuori dalla Sicilia oggi a mio avviso abbiamo una grande opportunità poi nel secondo giro torneremo su un altro argomento che è quello relativo al superamento della fase della industrializzazione che non abbiamo visto in Sicilia si possono e si stanno per spendere si può fare cioè saltare a piepare una fase perché le infrastrutture non sono quelle tradizionalmente intese oggi le infrastrutture soprattutto si muovono verso la direzione della signora Melinda verso l'intelligenza artificiale le infrastrutture digitali che preparano ci piaccia o no un futuro di produttività che va assieme ai futuri tradizionali che prevedono strade porti aeroporti ma consentirebbe alle regioni nel mezzogiorno di fare un salto avanti di diversi anni proprio perché per realizzare le infrastrutture digitali non c'è bisogno di industria pesante non c'è bisogno di inquinare c'è bisogno di utilizzare ciò che noi abbiamo due sole notizie e taccio Palermo e non solo per merito di Orlando scusami giusto se no sembra che è la città più cablata d'Italia pochi lo sanno noi dovremmo chiamare coloro i quali vogliono venire a fare un certo tipo di investimenti in Italia dicendo ma scusate perché non andate a Palermo e laddove potete fare meglio con un costo ovviamente relativamente più basso due dalla Sicilia passano tutte le dorsali di comunicazione delle major dalla Sicilia passa Cisco passa Google passano tutti e nessuno chiede niente a costoro non dobbiamo chiedere soldi non facciamo chino di tacco ma credo che passare da questa dorsale importante possa consentirci di vedere uno sviluppo che prepari quelle infrastrutture che piaccia o no al signor Trump e governeranno il mondo attraverso il 5G domani e chissà cosa dopo domani se vogliamo realmente dare un futuro diverso dobbiamo guardare con occhi diversi le altre infrastrutture di cui dobbiamo occuparci sono quelle immateriali la lotta alla mafia ha fatto passi da gigante e quindi da questo punto di vista alcuni risultati sono visibili ma c'è un altro tema che riguarda le infrastrutture immateriali e che riguarda invece la palude burocratica nel mezzogiorno che non consente alle aziende di investire ad avere certezza rispetto ai loro investimenti allora se a mio avviso la politica e torno alla premessa riesce a riprendere in mano le redini dello sviluppo attraverso un'analisi ovviamente ma certamente guardando oltre questo elettorato magari sarà meno volatile perché apprezzerà quella persona o quelle persone o quel partito che saprà dare quelle indicazioni grazie Saverio Romano vi faccio una sola obiezione poi mi risponderà che bisogna fare attenzione perché è già accaduto per ben due volte nella storia d'Italia che la modernizzazione o il facimento dell'Italia passasse per la Sicilia è accaduto nel 1860 dove la Sicilia diede un ruolo fondamentale nell'impresa dei 1000 che non sarebbe mai riuscita se la Sicilia non avesse fatto un capovolgimento forte come voi sapete è accaduto nel 1943 quando gli americani sbarcarono in Sicilia e anche lì senza un ruolo attivo della Sicilia gli americani poi furono bloccati a Montegassino per anni la Sicilia no la Sicilia fu al di là delle chiacchiere la mafia ma la verità è che fu la Sicilia partecipò e pensò anche per un certo periodo di diventare americana di diventare uno stato in più degli Stati Uniti cosa vuol dire questo? Che non è detto che siccome Google passa di qua l'occasione si può prendere automaticamente perché una volta che quell'occasione passa la storia ci ha dimostrato che l'occasione passa e poi altri se la prendono e la rapinano scusate non è un'obiezione è una considerazione ma facevo questa considerazione perché sa chi mi ha posto la questione a me ha posto la questione l'amministratore delegato di Sisco Italia cosa significa questo? che purtroppo siamo pochi attenti a ciò che accade sotto i nostri piedi semplicemente questo chiarissimo la ringrazio moltissimo e siccome lei ha fatto un cenno anche alle questioni chiamiamolo così di ordine pubblico e ai passi in avanti insomma oggi la Sicilia si presenta con un volto non tutto il sud ma la Sicilia sicuramente con un volto diverso da quello di una decina quindicina ventina d'anni fa nessuno secondo me meglio di Giovanni Mordillo presidente dell'ordine degli avvocati è in grado di dare anche perché poi come sapete siete liberi di dire quello che avete scelto di dire ma anche una notazione in questo su questo terreno buonasera a tutti mi presento sono Giovanni Mordino neopresidente dell'ordine degli avvocati di Palermo intanto sono contento di questo incontro così ad alto livello anche per il ruolo che viene riconosciuto all'avvocatura dell'avvocatura ne parla la Costituzione come l'unica professione che è menzionata espressamente nella Costituzione medesima quattro volte la Costituzione parla dell'avvocato e in questo momento rappresentare una delle sette eccellenze d'Italia perché di questo si tratta a proposito dell'Expo 2000 Dubai 2020 per me è motivo di orgoglio di rappresentare oggi l'avvocatura non solo palermitana ma anche nazionale l'altra sera in un incontro di studio mi ha colpito una frase di un relatore a proposito dell'auditorio particolarmente qualificato parlava di connessione delle menti che genera futuro oggi è uno di quei momenti nei quali questa frase si attaglia oggi veramente è un momento di connessione delle menti che genera futuro in questa prospettiva andiamo ora a quella che intanto sono favorevolmente impressionato dalla relazione del dottore Poli nella misura in cui finalmente si parla di inversione di tendenza dobbiamo aspettare il 2040 ma finalmente si parla in positivo diciamo che in questa terra purtroppo se ne è parlato soltanto in negativo e sempre parlando delle cose che noi non abbiamo che avremmo potuto avere e che non abbiamo fatto oggi si inizia a parlare di inversione di tendenza e in questa prospettiva non c'è dubbio che quando si parla di inversione di tendenza non possiamo che fare riferimento a quello che negli ultimi tempi si sta cercando di fare noi come ordine degli avvocati abbiamo istituito per esempio una commissione il cui compito è andare presso le scuole a insegnare legalità noi abbiamo il sacrosanto dovere di insegnare ai giovani il rispetto delle regole e quando si parla il rispetto delle regole si parla in prospettiva il dottore Poli nella sua relazione parlava di infrastrutture è una nota dolente per la nostra terra però quando si parla di infrastrutture e quando si parla di criminalità organizzata che come ha detto l'onorevole Romano finalmente sta per essere debellato o quantomeno si sono fatti dei grossi passi in avanti non dobbiamo dimenticare che debellare la criminalità non significa però rinunciare alla realizzazione dell'opera pubblica in altri termini fino a quando non creiamo un sistema io purtroppo ho scontato un salto generazionale che ritengo particolarmente negativo e cioè quando io ho cominciato la professione quando mi sono laureato esisteva una classe dirigente una classe dirigente che era stata selezionata a seguito di duri concorsi e comunque era preparata purtroppo in questo periodo io non la ravvedo probabilmente il blocco e l'assunzione il sistema normativo che ha determinato la individuazione dell'attuale classe dirigente e degli attuali funzionari non secondo le regole del pubblico concorso e quindi della individuazione del migliore oggi abbiamo una massa di precari che purtroppo ora ha scalato i vertici e paradossalmente per certi aspetti dirige anche le sorti della nostra terra in questa prospettiva quindi credetemi è veramente dura avere a che fare con una situazione la quale il sistema non è almeno allo Stato nelle condizioni di recepire le regole per me è un'offesa è una cosa pesante sapere che il finanziamento comunitario di diversi milioni di euro viene bloccato per la incompetenza per l'inettitudine dei nostri dirigenti a saperli utilizzare e lo dico con amarezza da avvocato che da alcuni anni svolge questa professione io mi occupo prevalentemente di diritto amministrativo e non mi vergogno a dirlo perché anche per me è stata occasione di lavoro sfruttare gli errori dell'amministrazione per fare valere la posizione personale del mio assistito ma nella sostanza per far sì che l'interesse pubblico ho parlato poco fa la realizzazione dell'opera pubblica non si realizzasse ahimè per colpa dei nostri funzionari quindi in questa prospettiva quando ho parlato di commissioni che girano per le scuole che insegnano i concetti di legalità ma intesa anche come il rispetto delle regole di conoscenza del diritto di conoscenza di strumenti che consentono al cittadino di difendersi ma soprattutto di maturare è una cosa inaccettabile che fino a 18 anni non si parla del diritto io ho fatto liceo classico sono orgoglioso perché quando si parlava poco fa di cultura greca io sono felice di avere un po' appreso della cultura greca in relazione all'insegnamento che ho avuto però posso dire che io fino a 18 anni non sapevo cosa fosse il diritto nel senso che le scuole non prevedono affatto l'idea che il giovane che cresca abbia notizia del diritto io di diritto non ho sentito parlare quando ho cominciato giurisprudenza tranne alcune scuole superiori di diritto non se ne parla quindi quando parlo di sforzo dell'avvocatura palermitana ma non è solo quella palermitana dell'avvocatura di entrare nella scuola a insegnare le regole che esistono le regole che vanno rispettate ma soprattutto che devono essere patrimonio di tutti e mi riferisco all'alfabetizzazione che purtroppo continua a essere uno dei problemi attuali della nostra terra mia moglie insegna in una scuola media e ha vissuto questa esperienza in una delle scuole sicuramente tra le più degradate della nostra città e posso affermare che quando si parla di prove invalsi che siamo purtroppo agli ultimi posti è un dato oggettivo e fino a quando ciascuno di noi non dà quel piccolo contributo che consenta ai giovani di crescere di avere idea di che cosa significa la tutela delle proprie posizioni e di conseguenza il rispetto delle regole e quindi la conoscenza delle regole credo che il 2040 spero non diventi un sogno grazie grazie a lei avvocato Mordino chiedo a Renato Schifani avrete notato che non dico professore presidente eccellenza lo considero come una chiacchierata tra amici una chiacchierata di riflessione su temi molto profondi e quindi scusami e non ti chiamerò neanche te presidente con tutte le cariche come non ho chiamato voi scusatemi ti faccio la domanda più semplice quello che hai ascoltato fino a questo momento che cosa ti ispira che sensazione a che punto siamo di quello che possiamo definire il progetto di Magna Grecia di questo salto culturale grazie grazie direttore grazie a voi grazie a Magna Grecia l'amico Foti per l'invito ma vede direttore quando ero presente al senato giravo l'Italia e dicevo guai all'Italia a due velocità lanciavo l'allarma la preoccupazione una preoccupazione che avvertivo anche da da uomo del sud perché sono rimasto uomo del sud e sento il sud dentro di me come componente essenziale della mia vita però dovremmo tornare un attimo di qualche anno indietro perché se facciamo eccezione dell'epoca del governo Giolitti che ebbe una grande attenzione per il mezzogiorno poi attenzione che venne meno con il fascismo poi riprese un attimo ma fu congelata dalla famosa crisi degli anni 2000 che ha colpito trasversalmente l'economia reale del nostro paese abbiamo un mezzogiorno che secondo la Banca d'Italia non secondo Renato Schifani ha una presenza infrastrutturale pari ad un terzo della media delle presenze infrastrutturali in tutta Europa questo è il nostro gap e si commenta da sé quindi dobbiamo essere consapevoli del fatto che in tutti questi dieci anni il mezzogiorno non è stato infrastrutturato per interventi di spesa pubblica o interventi di spesa privata questa è la fotografia abbiamo un'opera pubblica che mediamente secondo il nostro sistema si realizza nazionale si realizza in 18 anni laddove poi per la disgrazia del porto di Genova se si vuole si realizza in un anno e mezzo quindi abbiamo eccellenze dove si vuole e mediocrità dove non si vuole questo sistema ha impoverito il mezzogiorno perché non vi è dubbio che quando manca la infrastruttura materiale manca il lavoro manca la crescita manca la capacità di commercializzazione nelle aree del nord Europa laddove noi in Sicilia saremmo la porta per tutta la parte del nord Africa l'apertura al Mediterraneo grande occasione tanto conclamata ma mai utilizzata a causa di questo gap infrastrutturale abbiamo delle politiche di questi ultimi decenni dei vari governi che sono succeduti che non hanno guardato all'esigenza vede direttore quando io sento parlare di piano Marshall mi viene l'orticaria perché è la solita via di fuga che si afferma nei dibattiti per dire occorre un piano Marshall dopodiché ci si saluta e ognuno torna a casa nel proprio ufficio poi ci vuole Marshall per fare il piano Marshall perché questa entità esterna è la solita via di fuga la solita via di fuga ma la verità la fotografia dobbiamo dircela è questa è una fotografia amara una fotografia dove non dobbiamo però piangerci addosso perché se da un lato gli interventi sul microcredito vedasi interventi di Invitalia vedasi interventi settoriali hanno dato dei risultati non hanno risolto il bubbone centrale del fatto che poi per andare da Palermo a Catania occorre impiegare 5-6 ore di treno perché non c'è nemmeno minimamente l'alta velocità abbiamo dei processi diceva bene l'amico Savero il bubbone della lentezza della burocrazia lì è un problema endemico è un problema endemico non soltanto della Sicilia ma dell'intero paese dove purtroppo la logica e la cultura del silenzio assenso della velocizzazione del decisione dei processi amministrativi in settori non sensibili perché è chiaro che imporre il silenzio assenso in materia di sanità in materia di difesa del paese in materia di difesa del suolo pubblico è un po' complicato ma vi sono tante altre materie quali le autorizzazioni sa bene l'assessore carattere autorizzazioni di carattere amministrativo quali la possibilità di poter iniziare poi recepire eventuali controlli darebbero una svolta alla crescita del paese abbiamo un sud parlo della Sicilia che tendenzialmente si è affrancato da quella criminalità che costituiva uno degli elementi di freno agli investitori stranieri lo ha fatto perché grazie alla rivoluzione etica e delle coscienze dei siciliani degli uomini del sud delle donne del sud dei poliziotti dei magistrati lo ha fatto anche grazie a delle leggi che abbiamo avuto il coraggio direttore di approvare negli anni 2008-2013 con l'inasprimento delle sanzioni per i sequestri abbiamo approvato la legge sul sequestro per equivalente sequestrare un bene lecito nei confronti di un mafioso laddove si è privato in maniera franadolenta del bene illecito dato a terzi ma è tale che non potesse essere sequestrato allora si può colpire il bene lecito abbiamo colpito la mafia con le nostre leggi al cuore dei loro interessi e quindi la mafia effettivamente sta arretrando anche sul controllo del territorio l'abbiamo colpita nella fase centrale quindi vi è un tasso di legalità che è molto cresciuto nel nostro mezzogiorno mentre prima costituiva un freno altro problema che invece nel nostro paese sussiste è quello della incertezza legislativa sulle norme di carattere finanziario e fiscale e allora l'osservatore e l'imprenditore che deve investire e dinanzi a un paese che muta la propria normativa fiscale di anno in anno a secondo il governo che si cambia si frena nella volontà di investimento ma vale per tutto il paese questo vale per tutto il paese ma naturalmente noi del sud che abbiamo un gap di infrastrutturale un gap anche di infrastrutturale di industrializzazione più bassa rispetto al nord lo repaghiamo di più e quindi questo gap aumenta sempre di più per cui è evidente che costituisce un freno per tutto il paese ma noi che siamo handicappati paghiamo un prezzo maggiore perché se si cambia la normativa fiscale se si cambia le norme sulle autorizzazioni di anno in anno o di due anni in due anni è evidente che chi ci osserva sta un attimo attento e si frena cosa fare? ma al di là del piano Marshall dobbiamo essere consapevoli che occorre una volontà coerente e costante da parte della classe politica regionale e nazionale e di chi fa impresa cioè credere nell'esigenza di un fatto che il mezzogiorno ha le risorse umane ha le risorse architettoniche ambientali turistiche per poter livellarsi rispetto a quello che è il tasso medio di crescita del resto del paese abbiamo scongiurato e concludo il pericolo lo dico assumendomi la piena responsabilità di quello che dice un pericolo veramente di Italia a due velocità con l'eventuale consultazione del referendum sull'autonomia differenziata perché direttore nel momento in cui si fossero consumati quei referendum noi avremmo avuto un atto secessionista sostanzialmente sotto il profilo finanziario perché le regioni quelle regioni invocando l'applicazione corretta del terzo comma dell'articolo 106 della Costituzione invocando la possibilità di esercitare in proprio alcune funzioni avrebbero dato una inferta una ferita non indifferente a tutto il principio dell'unità del paese e alle regioni meno ricche rispetto a quella del nord lì la guerra per fortuna la guerra diciamo di dialettica si è consumata si è discusso io sono stato sempre convinto che quell'articolo è giusto è previsto la Costituzione può essere applicato ma nel senso che a quelle regioni che avessero ottenuto l'applicazione dell'articolo 116 terzo comma quindi funzioni proprie svolte in proprio con risorse storiche nazionali avrebbero potuto realizzarlo ma spendendo la spesa storica che dava il governo loro per l'esercizio di quelle funzioni non una liria in più in maniera tale per cui se la regione Piemonte avesse chiesto lo svolgimento di alcune funzioni che svolge lo Stato e avesse detto lo svolgo io con dei modelli funzionali miei che mi fanno risparmiare bene io Stato trasferisco la spesa storica che realizzo per quelle funzioni in Piemonte e ti do quello che spendo se tu sei più bravo e realizzi delle economie quelle economie le puoi utilizzare per altre funzioni ma mai modificare l'assetto complessivo di spesa dell'intero paese questo è un aspetto che discuteremo più in là se dovrà dovesse andare avanti però non dimentichiamo che noi parliamo da una terra che gode di uno statuto speciale e concludo veramente che purtroppo ha fatto una terra che ha fatto scarso uso e un cattivo uso direi di quella che è quella autonomia che prima 10 anni fa 20 anni fa ci veniva invidiata e che oggi costituisce devo dire purtroppo una palla al piede grazie per questo eccellente intervento e chiedo a Giusto Catania che ringrazio per avermi insegnato la regola dei tre minuti che ci ha consentito di rimetterci in carreggiata se pecca di ottimismo Nino Foti quando propone questi temi i temi di Magna Grecia qui ed ora siamo pronti? intanto grazie per questa opportunità di confronto e quindi io che ho imposto la regola devo essere forse il più rispettoso di questa regola ci proverò io credo che la discussione di oggi sia molto interessante perché sta provando a ribaltare il punto di vista noi per tanto tempo siamo stati abituati a discutere della questione meridionale utilizzando categorie non più attuali e oggi proviamo a discutere di una questione del sud d'Italia in una contrapposizione a mio avviso sterile col nord perché io credo non sia corretto dire che c'è un nord che va a una velocità e il sud che va a un'altra velocità bisognerebbe intanto analizzare i modelli del nord perché non è che tutto il nord è uguale non è che tutto lo sviluppo economico del nord è esattamente omogeneo lo sviluppo industriale della città di Torino è diverso dallo sviluppo dei distretti industriali del nord est o dallo sviluppo delle cooperative di servizi nelle regioni rosse o dallo sviluppo turistico nelle regioni adriatiche allora discutere dello sviluppo del nord in contrapposizione a un sottosviluppo del sud io credo che sia un problema mal posto e mi fa piacere vorrei connettere questo elemento con una questione che veniva posta dal dottor Poli cioè la cultura del territorio quello che è uno storico chiama genus loci qual è la caratteristica principale di quel territorio è possibile pensare a una esaltazione delle caratteristiche peculiari del territorio partendo da quelle che sono le proprietà insite di quei luoghi perché probabilmente noi paghiamo nel sud nel mezzogiorno in Italia in Sicilia paghiamo il fatto che si è pensato di imporre un modello di sviluppo che fosse improprio rispetto alle caratteristiche del territorio si è pensato di imporne uno e pensando che fosse valido così come era valido in alcune regioni del paese dovesse essere valido in Sicilia allo stesso modo dovesse essere valido nel mezzogiorno d'Italia allo stesso modo la industrializzazione forzata o coloniale che si è fatta in Sicilia è un modello che ha portato allo sventramento di alcuni territori che avevano altre caratteristiche non si è esaltata la peculiarità di quel territorio Gela non aveva bisogno dell'Eni Termini Merese non aveva bisogno della Fiat avrebbero probabilmente avuto bisogno di altri tipi di investimenti pensati sulla valorizzazione e l'esaltazione del genus loci l'esaltazione delle peculiarità di quel territorio e non è stato fatto io non credo che sia un tema di risorse perché se analizziamo la quantità di risorse che sono arrivate in Sicilia nel mezzogiorno d'Italia dalla cassa del mezzogiorno ai fondi strutturali negli ultimi 70 anni scopriremo che probabilmente non è un tema di quantità di risorse scopriremo che è un problema di qualità nell'utilizzo delle risorse e di le peculiarità dei territori che hanno utilizzato quelle risorse io penso che abbiamo fatto un errore storicamente che è quello di pensare che lo sviluppo che andava bene o l'idea di sviluppo che andava bene in qualche territorio dovesse essere applicato allo stesso modo nei territori del sud ed è lo stesso errore che stiamo facendo sulla povertà educativa lo stesso errore io mi arlaccio a un tema che ha posto Carlo Borgomeo a mio avviso in modo corretto io credo che il termometro della povertà educativa non può essere il test invalsi perché è lo stesso modello di un sistema di sviluppo che ha portato alla distruzione dei territori del mezzogiorno non si può partire da un modello precostituito e pensare che la valutazione delle competenze sia identica e uguale in tutti i territori del nostro paese è un errore di fondo è un errore di modello penso che vadano fatte le valutazioni delle competenze partendo dalle peculiarità e delle caratteristiche che nei territori si possono sviluppare rispetto alle competenze ci sono delle eccellenze nella nostra regione penso a delle eccellenze agricole nella nostra regione perché ci sono le eccellenze agricole nella nostra regione probabilmente perché si è valorizzato la caratteristica che avevano dei territori a forte vocazione agricola e quando io parlo del modello invalsi che ha massificato il modello educativo del nostro paese lo dico con grande consapevolezza perché io per hobby faccio l'assessore per hobby faccio politica da sempre per mestiere faccio il dirigente scolastico e mi rendo conto che non si può discutere discutere con le stesse caratteristiche preconfezionate per analizzare le competenze di un ragazzino che ha stimoli culture pecoliarità caratteristiche del territorio educazione allo stesso modo a Milano o a Palermo o a Bergamo e a Sciacca è sbagliato è sbagliato il modello allora da questo punto di vista io penso e finisco che partendo dalla città e dal mio punto di vista di amministratore pubblico di una città di amministratore della città di Palermo partendo dal mio punto di vista mi devo interrogare su qual è il modello di futuro per la città e oggi un modello di futuro per la città è un futuro con meno case non con più case con meno case con meno cemento con meno emissioni e con meno macchine e questo è un futuro che immaginato forse qualche anno fa sarebbe stato imprevedibile impensabile un futuro in cui l'accumulazione sviluppista ha portato a costruire sempre più case a pensare sempre più macchine e ad avere una indiscriminata emissioni atmosferiche che hanno portato alla distruzione di alcuni importanti territori del nostro paese allora oggi c'è un movimento su scala planetaria che si interroga sul futuro e non è a caso anche nel nome ha scritto un'idea di futuro si chiama Friday for Future e sta ragionando concretamente su che cosa è il futuro e qual è il modello di futuro e probabilmente è un modello che ribalta le categorie che per troppo tempo abbiamo pensato che fossero le uniche categorie possibili anche per il nostro mezzogiorno grazie a Giusto Catania mi ha fatto piacere che lei abbia accolto una cosa che aveva incuricita anche a me in quello che aveva detto prima Carlo Borgomeo e adesso vi proporrei un secondo giro però qua farò il nazista più breve un minuto a testa e ve lo proporrei su questo tema c'è qualcosa che avete ascoltato oggi che vi ha incuriosito come Giusto Catania è stato incuriosito dalla coda di Borgomeo cioè avrete notato che la differenza fra questa e le consuete tavole rotonde è che qui ognuno è stato interlocutore non è venuto da casa qualcuno aveva degli appunti ma con un discorsetto da fare ma abbiamo fatto una conversazione abbiamo fatto una conversazione dove tutto si è intrecciato a tutto e quindi vi esorto poi dite come sempre quello che volete ma se riuscite a intrecciarvi alle cose che avete ascoltato per me è meglio grazie a lei presidente darò la parola in conclusione non si preoccupi no no lei parlerà alla fine grazie io avanzo una preoccupazione che leggo un po' da molte cose che sono state dette cioè io ho paura un po' in una deriva identitaria del mezzogiorno cioè un pezzo del dibattito attuale meridionalista ha un po' recuperato questa sua identità meridionale rischiando di appunto Catania ha detto cose molto interessanti però c'è anche dietro un grande rischio che è quello appunto di nascondere dietro l'identità meridionale in qualche maniera anche questo rivendicazionismo che un po' riemerge perché poi è vero che il sud ha un po' di meno di soldi però di fatto questi due elementi rischiano di ricostruire non dico un movimento neoborbonico che mi pare eccessivo nella definizione però leggo anche un po' di stampa meridionale vedo rinascere un senso di appartenenza che senz'altro è un elemento importante che può essere un po' troppo assolutorio questo secondo me è un elemento che emerge rispetto al quale secondo me io ribadisco il mezzogiorno dovrebbe sempre provare a proporsi dicendo secondo me è una via d'uscita dell'Italia è al di là della retorica alcuni pezzi l'abbiamo detto prima cioè il tema ambientale probabilmente la piattaforma green italiana volendo o non volendo non può che essere nel mezzogiorno il tema è la logistica puoi scegliere dove la fai la devi fare per forza nel mezzogiorno quindi secondo me c'è uno spazio ancora invece per rilanciare il mezzogiorno all'interno di un discorso nazionale la mia preoccupazione è anche la stessa dibattio sull'autonomia secondo me io ho mille motivi per contrastare la proposta emiliana veneta e lombarda però ho paura che questa retorica tra virgolette la successione dei ricchi in realtà ha unificato è stato un elemento di unificazione di una classe dirigente un po' spompata meridionale in una battaglia sostanzialmente retroguardia questa è la preoccupazione che anche qua qualche volta ho colto non dico per l'educazione grazie a Luca Bianchi secondo me merita un applauso perché ho visto che lei Carlo Burgomè assentiva sostanzialmente d'accordo assentivo perché ho avuto la stessa impressione anche io sul dibattito sulle autonomie come ha detto lui ci sono mille motivi per opporsi a quel disegno c'è la preoccupazione che questo però faccia una specie di chiamata alle armi su tutti i buoni contro il nemico e a me viene sempre in mente una frase straordinaria che non riesco a ripetere bene di Benedetto Croce della storia del Regno di Napoli 1924 che faceva la rappresentazione delle due posizioni come se l'avesse scritto ieri quelli del sud dicono che quelli del nord non gli danno abbastanza soldi che sono egoisti eccetera quelli del nord che dicono che quelli del sud li spregano e che senza il sud l'Italia il nord sarebbe appunto assimilato alla Germania eccetera e Croce dava una conclusione straordinaria che mi porto sempre dietro dibattito inconcludente cioè non conclude assolutamente niente la questione centrale perciò annuivo con grande convinzione è quella che dice Luca è Luca Bianchi e cioè bisogna trovare il giusto equilibrio tra il riaccendere un po' di orgoglio perché quando diciamo che Poli ha ragione che ci sono delle risorse come dice Henry De Luca il sud è seduto su un tesoro e cerca di trovarlo altrove però per valorizzare le risorse locali ci vuole un po' di orgoglio un po' di protagonismo un po' di senso diciamo attivo senza cadere nel rivendicazionismo e lui è lì il giusto equilibrio da trovare cioè trovare motivazioni che non siano motivazioni lagnose di rivendicazione e colpa degli altri e quindi dei responsabilizzanti 5 secondi ero tutto contento quando lei ha fatto vedere le strategie per il futuro perché al primo posto ha messo l'attività di cura io pensavo che fosse una gerarchia cioè la prima cosa è quella spero che sia così grazie 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 mille e anche a lei questo gioco ha trovato qualcosa che l'ha interessato nel sì molto molto è la diversa visione di futuro che c'è anche quando si parla tra di noi questo è interessante ma è interessante non perché alimenta la conflittualità perché in confronti come questi si può registrare qualche dato che diventa anche patrimonio nelle nostre riflessioni future io ho una diversa visione di futuro da Giusto Catania io non ritengo che il tema sia quello di avere meno macchine e meno case il tema è quello di consentire alla persona di vivere bene nel nostro mondo anche con più case e con più macchine ma questo è un altro argomento era per dire le riflessioni che partono magari da storia da cultura da tradizione diversa che c'è tra me è giusto detto ciò io trovo il nostro dibattito per alcuni versi per le cose che io ho ascoltato da Bianca e da Borgomeo un po' tantino slegato da ciò che avviene in questo momento nel mezzogiorno consentitemi in questo momento nel mezzogiorno è partita una slavina che anticipa in maniera drammatica i dati istat che ci parlano di desertificazione demografica al 2050 questa slavina ci porterà al 2025 e per quale ragione perché se noi alcuni temi non li affrontiamo ieri con la determinazione che può sembrare rivendicazionista ma è soltanto asserzionista rispetto a temi che vanno affrontati con urgenza questa battaglia non si perderà sul campo magari si perdesse sul campo si perderà per abbandono del campo perché dovremmo occuparci sì professor Poli di Silver Economy ma ci saranno solo vecchi che si occuperanno di vecchi perché il nostro patrimonio umano ci sta lasciando e non è soltanto un tema legato alla nostra economia e alla nostra difficoltà di crescere senza giovani è legato anche al dolore dei familiari che vedono perdere l'affezio familiare rispetto a questo io non credo che ci sia tanto da dire quando ci vengono a proporre l'autonomia differenziata e tutti noi sappiamo cos'è perché in Sicilia godiamo di questa autonomia ma sappiamo pure che in questo momento le regioni del mezzogiorno pagano fior fior di quattrini depauperando il bilancio regionale per le cure sanitarie che i nostri concittadini fanno nel nord del paese se noi dovessimo accedere al principio secondo il quale chi ha avuto di più si è infrastrutturato e ha costruito ha torto per la classe dirigente del mezzogiorno non dico che hanno torto loro per essere molto chiari ma questa è la condizione di fatto e con l'autonomia differenziata allargherebbero ancora di più questo divario altro che rivendicazione c'è una resa non ci sarebbe alcuna possibilità per le amministrazioni al mezzogiorno di erogare i servizi essenziali non c'entra la rivendicazione è un'asserzione perché rispetto a questi temi io penso che il popolo del mezzogiorno identificando quello che risiede nel mezzogiorno e che ha il diritto dello stesso popolo che risiede fuori dal mezzogiorno deve con forza difendere questo diritto altrimenti diventa veramente una disfatta grazie grazie avvocato lei che spunto ha trovato fra le cose che ha ascoltato oggi pomeriggio io paradossalmente vedo positivo a me ha colpito l'ho detto poco anzi lo ribadisco questa inversione di tendenza che comunque io ravvedo nel mio picco nella mia professione in quello che accade ricordo quando ho cominciato a svolgere questa professione il mio maestro che proveniva da un paese del centro della Sicilia a proposito dell'utilizzo di risorse essenziali faceva riferimento a una frase del politico che veniva nel paese e a proposito dell'acqua cittadini volete l'acqua avrete l'acqua non se ne parlava nemmeno sono passati vent'anni trent'anni c'è stata una politica di attenzione alle risorse negli anni 2000 e qua ci sono degli esponenti si è realizzato qualcosa oggi tutti i cittadini siciliani possono avere dal rubinetto l'acqua non è come prima che dobbiamo aspettare una settimana 15 giorni per avere l'acqua cosa voglio dire qualcosa è cambiato in meglio io ho qualche perplessità sulla interpretazione dell'articolo 116 comma terzo della costituzione mi riferisco alla secessione delle regioni dei ricchi in una sostanza mio modesto modo di vedere ci sono delle autonomie che vanno valorizzate ma se queste autonomie devono servire per impoverire la nazione la reazione è stata quella che c'è stata io sono felice che ci sia stata l'unità di tutte le regioni per contrastare un fenomeno veramente inaccettabile in un contesto unitario per chiudere io dal mio punto di vista non posso che affermare in ordine alla autonomia che i nostri padri e lo statuto ci hanno dato che questa autonomia sia tale fattiva nell'ambito della nostra regione che non è solo la nostra regione parlo del meridione io parlo qua dal punto di vista dell'avvocato io non posso consentire che una norma nazionale mi riferisco a codice degli appalti mi riferisco al testo unico dell'edilizia mi riferisco a norme nazionali unitarie che qua vengano recepite però con il rinvio alcune volte dinamico alcune volte statico in concreto alcune volte riteniamo di applicarle altre volte lo applichiamo in parte statico riteniamo di avere autonomia legislativa articolo 117 della Costituzione e nella fattispecie noi abbiamo una norma statutare articolo 14 dello statuto della regione siciliana di fatto però accade che questa situazione di commistione di norme nazionali e regionali rende difficile l'operatore ad andare avanti quindi il mio auspicio è inversione di tendenza ma applichiamo questa inversione di tendenza con la chiarezza nel dettato legislativo grazie grazie a lei avvocato io passo la parola a Renato Siffeni facendo una considerazione a me il discorso che ha fatto l'avvocato Mordino sulle autonomie regionali e su quello che deve essere il tessuto nazionale mi ha convinto ne ero persuaso da prima ne sono ancora più convinto però c'è un problema di come appare il sud in questa domanda per Renato Schifani e appare che ci sono due regioni di centro-destra e una di centro-sinistra che si l'Emilia di centro-sinistra Veneto e Lombardia di centro-destra che si muove in una direzione esprimendo una loro sensibilità sbagliata e poi e questo la cosa più brutta appare fermo restandolo un sud piagnone che dice aiuto voi volete fare noi come facciamo e loro per non apparire come razzisti non ve lo rispondono dice ma guarda che l'autonomia ce l'ha anche la Val d'Aosta l'autonomia ce l'ha l'Alto Adige e come mai lì l'autonomia ha funzionato in una maniera diversa di come ha funzionato l'autonomia siciliana non sarebbe il caso a un certo punto di cambiare registro cambiare qualcosa rinunciare all'autonomia se l'autonomia voi dite che comporta spese sprechi basta rinunciamo oppure come si interrompe questa impressione del del nord uniforme perché ripeto sono di sinistra e di destra le regioni che hanno chiesto l'autonomia e di un sud che al momento della verità piagnucola grazie direttore la sua domanda è variamente scalettata e postula l'esigenza di singole risposte cercherò di essere quanto più sintetico vorrei ricordare che purtroppo dico purtroppo la spinta all'autonomia differenziata è stata fermata caro collega non tanto dalla resistenza delle regioni purtroppo ma dalla crisi di governo non c'è stato blocco di alcune regioni nei confronti delle altre che resistono anzi vi erano regioni modello Campania per farne nome e cognomi dove il presidente De Luca in perfetta buona fede sosteneva che anche la Campania era pronta a rivendicare rivendicava la propria autonomia è stata la crisi del governo che ha cambiato un attimo la tipologia dell'impostazione dell'alleanza e che ha in questo momento affermato dico questo perché non vi era da parte di certa popolazione del mezzogiorno o certi governi del mezzogiorno la consapevolezza del danno che si sarebbe regato all'unità del paese attraverso quella forzatura dell'equilibrio costituzionale perché secondo me la Costituzione quando l'abbiamo riformata c'ero anch'io il 116 terzo comma postulava l'esigenza io ti do i soldi io ho stato ti do i soldi che spendo per le funzioni della tua regione quelle funzioni te le gestisci tu se sei più bravo risparmi e fai altro la logica invece di quelle regioni era un attimo completamente diversa arrivare all'autonomia totale per cui i tributi riscossi in quella regione rimanevano direttamente in quella regione quindi non più finanza derivata finanza autonoma le regioni ricche si arricchivano le regioni poveri rimanevano povere prima considerazione non vi è appunto la consapevolezza secondo me da parte del mezzogiorno della classe politica del mezzogiorno dei cittadini del mezzogiorno di questo pericolo poi lei mi chiedeva sulle politiche del centro-destra io devo dire con amarezza amarezza politica non personale oggi come oggi posso parlare più di destra-centro che di centro-destra perché le dinamiche direttore lei è un grande acuto rispettato osservatore da parte dei miei da parte di tutti noi conosce bene le dinamiche interne nell'ambito delle coalizioni di centro-sinistra vi è stata la scissione di Renzi ed altro della futura incorporazione libero-uguali sicuramente nel PD nel centro-destra non c'è più centro-destra c'è destra-centro e destra-centro naturalmente attrazione leghista dà delle sensibilità su questi temi diversi rispetto a quelle che erano le sensibilità quando era il mio partito era Forza Italia essere elemento di traino di quella coalizione e quindi scontiamo anche queste limitazioni anche personalmente anche queste difficoltà queste sofferenze tornando all'ultima risposta l'autonomia siciliana perché alcune hanno funzionato altre no beh vi sono dei substrati culturali completamente diversi l'autonomia siciliana è negoziale è un patto negoziale che nasce tantissimi anni fa aveva ed ha ancora l'articolo 36-37 lo statuto che consentirebbe alla Sicilia appunto vero Saverio piena autonomia fiscale quindi tutte le imposte che vengono prodotte e versate in Sicilia rimangono in Sicilia non è stato attuato non è stato attuato direttore per un semplice motivo secondo me perché in passato avendo fino a qualche decennio or sono prima della riforma dell'elezione diretta dei presidenti delle regioni avendo quindi una forma di governo derivato e quindi i governi regionali erano figli dei governi nazionali non vi è stato mai in passato alla forza politica di un presidente della regione che era dinamazione naturalmente della maggioranza nazionale la forza di rivendicare nei confronti di quel governo l'attuazione dell'articolo 36-37 del nostro statuto che consentiva alla Sicilia di avere vera piena e totale autonomia di carattere finanziario non vi è stata questa capacità perché il presidente del governo regionale era figlio della maggioranza nazionale e quindi vi era un fatto derivato di voler subire un attimo perché dici no non è così scusa c'è stata questa forma di subordinazione mi dispiace Renato questo argomento è molto importante questa è la mia analisi non sono portatore dell'assoluto perché tu eri al senatore alla camera nel 2003 quella norma nasce da un disegno di legge da me presentato che poi fu approvata passò alla conferenza Stato-Regioni e poi l'ultimo ostacolo che si pose era in ordine all'identificazione del codice tributo da dare alle imprese che pur avendo residenza fiscale fuori dalla Sicilia che non riuscirono io ti volevo dire che è una legge in vigore però siccome abbiamo il dottore Bianchi che è stato anche assessore al bilancio durante il governo Crocetta ci dirà ci dirà perché sono stati loro scusa io amo parlare con la verità e dire le cose con nome e cognome questa norma che è in vigore e il cui padre sono io così la mettiamo in chiaro votato da tutto il centro ma non credo tu sei il pare dell'articolo 36 dello statuto io sto parlando di quello la norma che ha reinserito la norma che ha reinserito la possibilità che le imprese che abbiano residenza fiscale fuori dalla Sicilia pagano la tasse in Sicilia è una norma a tutti gli effetti dello Stato italiano Crocetta cosa ha fatto vi ricordate quella trattativa quella transazione adesso ce lo facciamo raccontare che Crocetta ha letto direttamente scusa no perché dico scusami quando si parla di mancate occasioni bisogna avere chiare anche di chi sono le responsabilità relativamente alle mancate occasioni siccome noi abbiamo fatto il nostro non so se sono chiaro io vorrei capire cosa è accaduto invece nel momento in cui questo codice tributo è stato attribuito facendo la simulazione IRAP per le imprese che pur non avendo residenza fiscale in Sicilia devono pagare quelle tasse in Sicilia il governo Crocetta allora Crocetta ha fatto un accordo relativamente al contenzioso che riguardava tutti gli anni precedenti e ha ceduto per circa 500 mila euro 500 milioni 500 milioni di euro tutto quel contenzioso siccome io non volevo c'è l'assessore dell'epoca io non posso stare in silenzio scusa Savero io non volevo parlare vorrei dirti che Crocetta è eletto direttamente dai siciliani quindi io facevo un'analisi storica un attimo un po' più diversa un po' più strutturale cioè faccio un'analisi storica direttore quindi non politica degli ultimi tempi perché dovrei dire Crocetta è eletto direttamente dai siciliani io faccio un'analisi che retroagisce al passato ai modelli di governo regionale diversi rispetto a quelli eletti direttamente dai siciliani e i presidenti delle regioni eletti direttamente dai propri cittadini avevano un potere contrattuale diverso nei confronti dei governi centrali rispetto ai propri predecessori che erano figli dei governi centrali questa è la mia analisi in questo naturalmente ha difettato il potere non avendo potere contrattuale l'attuazione degli articoli 36 e 37 che è il grimaldello della vera autonomia siciliana non è stata potuta non si è potuta realizzare quando è intervenuta la riforma dell'elezione diretta del presidente della regione vedasi Crocetta vedasi Musumeci vedasi altri Lombardo era tutt'altra storia perché era stato depauperato il principio della nostra autonomia finanziaria per cui poi si sono succeduti errori su errori come quelli che citava l'amico Saverio ma quelli sono errori su errori l'occupantazione sull'occupantazione in Friuli tutto questo non è successo ha funzionato anche perché e lì concludo io sto in Parlamento da tanti anni anche Saverio lo è stato e mi auguro che torni questi partiti del nord sono stati sempre governativi con qualunque maggioranza o di centrodestra o di centrosinistra stanno in maggioranza per realizzare per essi stessi delle politiche di territorio bontà loro sono stati bravi forse sarebbe il caso di apprendere questo insegnamento sempre governativi e fare ma noi non abbiamo un partito locale loro hanno la sud di Tirola hanno dei partiti locali che hanno una rappresentanza nazionale grazie giusto Catania che diventerà presidente della regione eletto dal popolo immagino che ha inventato la regola di tre minuti beh non si sa mai partecipare a questo genere di dibatti di porta fortuna accolgo la provocazione positivamente ma funziona se no è il mio io vorrei provare a tornare al tema di oggi perché ho avuto molti stimoli dagli interventi precedenti e vorrei provare a dire che io sono molto d'accordo con quelli che dicono che se rispondiamo alle regioni del nord rispetto all'autonomia differenziata con un rivendicazionismo piagnone perdiamo perdiamo oggettivamente perdiamo allora dobbiamo provare ad articolare una proposta di futuro e la proposta di futuro può essere iscritta a mio avviso in un'analisi attenta rispetto ai processi democratici che stiamo vivendo in questo momento su scala planetaria perché perché sempre di più c'è un restringimento degli spazi democratici le grandi decisioni in materia economica in materia commerciale non sono assunti dai parlamenti né sono assunti dagli organi elettivi vengono assunte da organismi internazionali da istituzioni internazionali spesso da organizzazioni governative internazionali penso il fondo monetario internazionale l'organizzazione per il commercio le banche centrali che non hanno alcun rapporto con la democrazia non sono stati eletti da alcunché e questo come conseguenza produce forme di irrigidimento territoriali che su spinti autonomiste anche suppulsioni talvolta identitarie determinano il tentativo di accesso a nuove forme di democrazia io riesco a leggerlo in questo modo le tendenze neoidentitarie che si affermano in in alcune regioni dell'Europa anche in alcune regioni nazionali allora come rispondiamo a questo a questo modello io penso che possiamo discutere di mezzogiorno esclusivamente in chiave mediterranea allora dovremmo provare a ragionare sulla costruzione di una macro regione che è una regione mediterranea e la Sicilia non può fare altro che ragionare in termini mediterranei è un ragionamento in termini mediterranei deve fare i conti con un'idea di società e l'idea di società oggi o è interculturale o non è e una società mediterranea implica il fatto che devi essere in grado di costruire non solo relazioni economiche con le regioni del nord del Maghreb ma del nord dell'Africa le regioni del Maghreb ma devi essere in condizione di costruire una nuova idea di identità culturale che si fa carico della contaminazione allora io credo che questo sia una grande opportunità e una grande opportunità imposta anche dalla crisi demografica che sta vivendo l'Europa ci sono dei documenti della commissione europea di almeno 15 anni fa che dicono che l'Europa nel 2050 avrà bisogno di altri 60 milioni di lavoratori migranti altri il problema è che non esiste un modo in Europa per entrare in modo regolare quindi non si capisce come possono arrivare altri 60 milioni di lavoratori migranti per tutelare il welfare europeo per tutelare la condizione sociale dell'Europa vista la crisi demografica dell'Europa allora le pulsioni etnocentriche hanno impedito impediscono l'attuazione di politiche chiare che rendono possibile l'ingresso di altri 60 milioni di lavoratori nel territorio dell'Unione Europea di cui l'Europa ha bisogno ma questo mette in discussione un principio di natura culturale siamo nelle condizioni di pensare concretamente alla necessità di avere un'identità planetaria un'identità interculturale se non facciamo questo secondo lei se non mettiamo abbiamo l'obbligo di farlo io penso che abbiamo l'obbligo di farlo se vogliamo ragionare l'attuale governo mi sembra orientato in quella direzione non ho sentito l'attuale governo mi sembra orientato in quella direzione aprire io non credo che l'attuale governo sia dentro questa dinamica non credo che lo possiamo semplicemente ricondurre al fatto se scegli un'azione umanitaria invece di tenere per 20 giorni in mare poveri disgraziati scegli di dargli un posto sicuro un porto sicuro non è questa la politica che stiamo questa è una scelta umanitaria oggettiva qual è la scelta la scelta è un'altra la scelta è di investire su un grande processo di contaminazione culturale ed economica cioè il fatto che le frontiere aperte non sono un obbligo di legge sono una necessità politica perché l'Europa che sempre di più ha una decrescita demografica ha l'obbligo di ragionare su come sei in grado di accogliere tanti nuovi cittadini professionisti intellettuali ingegneri medici operai che vengono da altre parti del planeta mi convince ma non capisco all'atto pratico che significa farli venire all'atto pratico all'atto pratico significa che bisogna costruire delle politiche bisogna costruire delle politiche oggi non esiste un modo un modo per chi viene da Tunisi per entrare regolarmente in Italia o in Germania non esiste esiste solo una formula che è la formula che viene utilizzata quotidianamente si arriva in modo irregolare e poi viene regolarizzato successivamente io credo che le imprese del sud io credo che una nuova idea di programmazione economica dell'Europa abbia bisogno invece di programmare gli ingressi abbia bisogno di pensare a delle frontiere che siano costruite anche per un'interlocuzione stiamo parlando vergogna per le proprie opinioni io non mi sono mai vergognato delle mie opinioni se qualcuno si vergogna delle proprie opinioni è un problema suo non un problema mio io le mie opinioni le dico in questa sede come in altre sedie non mi vergogno di affermarla di affermarla a secondo dei contesti quindi ripeto abbiamo l'obbligo a mio avviso di pensare una società che ragione in questo modo altrimenti non ce la faremo saremo sempre di più costretti a ragionare su un'Europa che diventa più vecchia un'Europa che non è più in grado di produrre e un'Europa che si muova a più velocità a più velocità e guardate non è un caso che i paesi europei che hanno un indice di sviluppo economico maggiore rispetto alle altre sono quelli che hanno pensato bene di costruire politiche di inclusione e politiche di accoglienza la Germania ha 3 milioni di turchi e questo ha portato sì ha fatto in modo che lo sviluppo economico della Germania fosse molto molto più alto dello sviluppo economico di altri paesi che hanno respinto i lavoratori i lavoratori migranti la ringrazio torno a dire che secondo me l'attuale governo è il più adatto per raccogliere questi suoi spunti e in parte li sta raccogliendo sia più ottimista e comunque do la parola al presidente Foti perché lei potrà dirci intanto le ho riconsegnato il parterre all'altezza dei tempi è già questo a lei trarre le conclusioni intanto per immagino che la domanda sia anche per me cosa mi ha colpito prima di dire cosa mi ha colpito lo posso anticipare l'intervento di Carlo Borgomeo è una sua battuta volevo dire due parole a seguito dell'intervento del dottor Catania dell'assessore cioè ricordando un dato dello Svimez che negli ultimi dieci anni dice che noi abbiamo circa 135.000 giovani che 60% giovani il resto non vecchi ma in età lavorativa e vanno all'est lasciano le regioni del mezzogiorno e abbiamo un'immigrazione cioè abbiamo un'immigrazione di 63.000 ciò significa che partono all'estero italiani intelligenze giovani e noi abbiamo immigrati che normalmente per l'idea dell'inclusione naturalmente devono essere all'altezza di sostituire e dare quelle indicazioni tecniche nel mondo del lavoro che invece non ci sono perché i tedeschi hanno preso 3 milioni di siriani ognuno aveva 10.000 euro da depositare in banca anche tutti professionalizzati noi abbiamo tutti i poveri disgraziati dall'Africa i quali vengono qui per motivi economici non hanno da mangiare non sanno dove dormire per almeno 60-70% una piccola parte delinque dobbiamo aiutarli perché sul piano umanitario è una prospettiva positiva però questa è la situazione oggettiva questa è la situazione oggettiva per quanto riguarda tornando al nostro discorso vado verso le conclusioni ma sono strettamente collegate a me è piaciuta molto la battuta ricordare la citazione di Benedetto Croce che è del 1924 che nella sostanza indica che c'è una lamentela continua nel tempo e nella storia cioè gli italiani si lamentano del sud del nord del nord del sud ma parlando del nostro mezzogiorno quello che ha indicato sempre Carlo Borgomeo riferito agli aiuti diciamo al sostegno dell'Unione Europea che non è altro che il ritorno dei soldi che l'Italia dà all'Europa che dopo tornano all'Italia non cambiare come dice Borgomeo né il metodo né il sistema ma addirittura replicare spesso anche con le stesse persone i stessi soggetti in passato con un Parlamento europeo che non contava niente oggi è già un po' più protagonista significa avere veramente una prospettiva di futuro immediato disastroso l'altra citazione e concludo che riguarda invece lei che ammiro come scrittore storico e seguo le sue trasmissioni di divulgatore nel 1861 quando successe la storia dei mille subito dopo c'è stata la più grande diaspora qui c'è il ministro della diaspora albanese della storia dell'umanità degli italiani soprattutto del mesogiorno che hanno impoverito ancora di più l'Italia per cui il problema del mesogiorno che può andare indietro nel tempo da 150 anni non solo si ripete oggi ma noi oggi abbiamo 20 milioni di cittadini italiani che non solo vanno a due velocità come diceva Renato Schivani ma addirittura hanno un disagio inaccettabile e questo non può che essere per responsabilità personale importante della politica della burocrazia delle incapacità dei burocrati che non hanno saputo e voluto fare sì che il danaro arrivasse in un terreno fertile perché avere tanti soldi in un terreno non fertile non significa niente basterebbe avere meno soldi però con persone che hanno più capacità e altro per cui il problema fondamentale è questo delle responsabilità del sud con un piccolo accenno vado a concludere che alcune responsabilità direttore dopo io vedo che anche nei suoi libri compreso l'ultimo libro che abbiamo qui Verità segreta cita molte di vicende che riguardano i nostri tempi ci sono le responsabilità nazionali dello Stato perché quando c'è stata una sostenibilità così come nel settore delle strade delle ferrovie dell'alta velocità per cui il paese poteva sostenere finanziariamente la costruzione ferroviare dell'alta velocità da Napoli a Palermo da Napoli a Catania da Roma a Regione non l'ha fatta e allora bisogna che qualcuno spieghi il perché di questo e di altre grandi opere infrastrutturali che comunque dipendono da Roma fermo restando che la maggior parte delle responsabilità sono al sud Sacrosante considerazioni io vi ringrazio siamo tornati nei tempi e dal vostro essere rimasti incollati alle sedi capisco che quantomeno non vi abbiamo annoiati Paolo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti